No Non è po' che uno ha scritto il nuovo manifesto Se vuoi di sentire, allora vogliamo dire una cosa Il più presente per Assa ha detto se si accompagnerà in questa serata E anche domani sera, tanto come fa di me Abbiamo la chitarra di Giacomo Mosca A le tastiere Giorgio Camoriano Al basso Percato Robiano Percussioni Sergio Brunetti Alla batteria Piero Bene, faremo qualche pezzo così improvvisato Anche perché non abbiamo avuto modo di fare le prove Palla tremenda Comunque grazie di essere venuti qua Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente Non Bush, ma Bugione Perché ha fatto quasi tutto da solo Noi abbiamo cercato E anche perché non abbiamo avuto modo di fare le prove Noi 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 abbiamo avuto modo di fare le prove